come andrà, è il risultato? è un risultato no? no, non è un risultato è un risultato è un risultato è un risultato è stato operato la prima da Neil Ford Alessia sconfitto dal mal di schiena Ivan Lendor si è riferata ai campi di tennis 1883? no un errore per Alessia Giaon Salvo il giorno del 94 il gioco buone bravo risposta esatta 34 anni il grande campione ha lasciato il dolore alla schiena non gli dava più trego andiamo dalla Valentina nasce il cantante Justin Bieber 94 brava 1 marzo 94 a London nel lontario Giulia per una importare carne dall'elettro il regime fascista inizia a incentivare il consumo di pesce italiane quindi non è sempre possibile esatto nell'ottima della politica autartica di quegli anni Gilevra a Roma scompare Manuela Ornambi 83 risposta esatta una legenda che porta tanto dolore Alessia in tv Giorgio Bocca conduce il programma di formazione prima pagina 1960 no 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 1983 musica di casi di affondimento era 1983 caro Alessia non so come dirte ma te lo dice il rumore stesso non più errore sarai protagonista di un'altra sfida questa volta però sarai tu in Italia contro Gian Salvo ecco bravo teniamo reazioni scomposte tra i parenti è vero attento Gian Salvo sarai il primo a rispondere chi perde qua fuori un banco in hotella esatto eletto domestico pelate i panni esatto non è interno esterno bene tiepido calore tecura tecure si si mette sul cono si mette sul cono gelato si esibizione manifestazione pubblica che è messo bene distorsione snogatura l'infattiva bene novanta volte mille nove mila no no esatto il senso dell'olfatto olfattivo no il senso dell'olfatto più o meno no circa l'uomo l'angio esatto proteina no casino giusto terreno di gelsi gelsi finisio no gelsato no gelsio no gelsemo no gelsero gelseto già hai detto no hai detto gelsito in realtà gelsito andiamo avanti apparire e sparire alla vista gelsio giovanile giusto la canta cucini la cittadina leggenda la l'olore la cittadina lo lo motiva lo motiva giusto si no di metafora forza troppo giusto pieno d'ansia si articolo di critica tre forze no? forza no recensione recensione a destia a destia eh vabbè bella viva profondamente viva grazie a te ciao ciao c'è un salvo tiro sospiro saliero e è il momento della scossa barra usiamo in caro i c'è un salvo a me c'è un salvo che si Grazie a tutti.